Un gel di limone sostiene una spuma di patate allo zafferano che accoglie un trancio di baccalà cotto nel latte di mandorle e accarezzato da una polvere di olive nere candite. È stato presentato così lo zafferano DOP dell'Aquila a Casa Abruzzo, nel cuore di Milano, a un passo dall'Expo. L'Associazione Le Vie dello Zafferano ha sfoggiato il rosso porpora dell'oro dell'Aquila attraverso la maestria dello chef stellato William Zonfa. L'ambasciatore dello zafferano dell'Aquila nel mondo ha deliziato così gratuitamente turisti, avventori e milanesi con la magia dell'oro rosso. Uno dei prodotti, forse dopo il Monte Pulciano d'Abruzzo, più conosciuti al mondo. Questa sera preparerò un piatto proprio in onore, in omaggio all'Abruzzo, zafferano al 100%, accompagnato con un trancetto di baccalà cotto a latte di mandorla, una spuma di zafferano, delle olive candite e polverizzate e un filo d'olio a crudo. Sicuramente è un piatto molto fresco, è un piatto tra virgolette povero ma che rappresenta nudo e crudo quello che è il nostro territorio. Una tradizione rinnovata dall'interpretazione dello chef che ha spinto la sua tecnica alla riscoperta dell'essenza della materia prima d'Abruzzo, con accostamenti e cotture mai scontate. Un altro passo dunque per far conoscere lo zafferano DOP dell'Aquila nella cornice di casa Abruzzo, tra vini, tartufi e formaggi, con un occhio attento a far crescere nuove generazioni di produttori per non disperdere l'eccellenza del territorio e ravviare l'economia agro-culturale. L'entusiasmo per la degustazione del baccalalo zafferano è stato appagato anche con la distribuzione di un ricettario dello chef Zonfa. Cinque ricette a base di zafferano raccolte in un prezioso libricino realizzato dall'Associazione Le Vie dello Zafferano per la divulgazione dell'Oro Rosso d'Abruzzo.